Dunisiani questa è una nuova mappa, una nuova mappa parkour in realtà E allora questa, non so se vi piacciono le mappe parkour ma ovviamente non funziona perché Siccome la mappa è stata fatta in 1.16, cioè in 1.12 non funziona niente no? Ovviamente quindi Perfetto, ora possiamo premere start e cosa sto dicendo qua? Delle resource pack Vediamo se hanno finito di far cavolate, allora se volete vi lascio la mappa La mappa che sto usando in descrizione, partita una musica che ovviamente non metterò perché Ho paura del copyright di youtube, sapete come Mica la lascio, cioè, oh caspita Vedrete solamente le mie facce, molto nervoso in quella situazione Però dunisiani tranquilli, allora Premetto subito che se sentirete un cane Mi spiace, a parte che sto facendo dei casini Mi spiace ma non so, c'è un cane che abbaia qua, boh, vabbè E' molto strana come cosa, ok, si va da questa parte, allora In questa mappa mi vedrete tanto, 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 tanto nervoso Ma fidatevi davvero tanto perché Io La pazienza non ce l'ho per queste cose Soprattutto non ho la pazienza quando i cani si mettono ad abbaiare E non la smettono ad abbaiare Cioè per esempio il mio, anche un cane, però Nel senso il mio non è che abbaia sempre Invece c'è questo cane che non si sa perché abbaia, vabbè Avrà le sue difficoltà Come anche non sopporto quando cado per esempio nella lava Mentre, eccoci Stai scherzando? Io, 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 io odio con tutto il mio corasson Corasson, come caspita si dice Ascolta ma ce la fa? Allora, eh, voglio, vorrei andare da questa parte Non mi rompe, non mi rompa le Eh? Le scatoline, diciamo Ok, si va da questa, mi sa Poi si sale così Mamma, io sono, sono già un parkourer Professionalissimo Più o meno, eh Allora, sicuramente abbiamo l'opportunità di migliorare un sacco Oh, perfetto Abbiamo raggiunto anche l'altro checkpoint Molto bello, molto bene Allora, abbiamo l'opportunità di migliorare Ogni secondo che passa Ad ogni blocco che saltiamo possiamo migliorare sempre di più Però in realtà, ora che mi sto rendendo conto Io Con questa tastiera faccio un casino della Eh? Un casinone, diciamo Un gran casino, ecco Per non dire qualcos'altro Vabbè, ce l'ho fatta, per fortuna, no? Perché Se no sarebbe stato molto problematico Perché avrei spaccato tutto Scherzo Ma scherzo Oh, ma che begli effetti, scusate È fatta benissimo questa map Allora, se volete Ovviamente non contiamo Non è che, non sto cercando di fare Una cosa veloce Cioè, ma vai Iniziamo bene, dunisiani Siete contenti Di iniziare questa mappa E sentire le mie brutte parole Che tirerò Allora, ovviamente Questa mappa è una prova È una gran prova Perché non so se vi piacerà Dunisiani Non lo so affatto Quindi Se non la vedrete più Vuol dire che Non vi è piaciuta Oh, bene, bene Perfetto Ci siamo riusciti Adesso andiamo da questa parte Io ho paura anche di camminare Perché ho paura che mi mandi indietro Non è una bella cosa Quando ci manda indietro Eh, cosa è successo? Guardate, ma da questa parte Cioè Dove cosa Non si va da questa parte, vero? Cioè, allora Potremmo andare da questa No, no, no Scherzavo Non si va Non si va Perfetto Allora Dobbiamo per forza Proseguire da questa parte qua Vedete Utilizzando Saltando queste mappe Se volevi dire questi blocchi Che non sono la stessa cosa di mappe I blocchi Ok Ce l'abbiamo fatta Vedete Quando cerchiamo di concentrarci Riusciamo sempre A Ad andare Allora Ah, ecco Da questa parte Oh, stavo Non capivo Non capivo Doniziani Sono caduto da questa Volete vedere che Eccoci Lo sapevo io Ma porca di quella miseria Dai Allora Proviamo a riuscire meglio, no? Però scusate Doniziani Ma io veramente Non so Ehm Come? Come? Cioè Dove? In che parte devo andare? Ah, forse ho capito Quella roba è una cosa di slime Sì, 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 sì Sono stato troppo Mamma mia Mamma mia Mamma mia Che pro Che pro di Minecraft Proprio robe pazzesche Si vede che gioco Dalla 1.8 a Minecraft Sono vecchio come Non lo so Vabbè Ovviamente c'è gente che tipo gioca Da versione Iscrivetemi da che versione giocate A Minecraft Sarebbe una cosa molto interessante da sapere Se io riuscissi solamente a saltare Però da questa parte si prosegue Ah, ok Si deve andare da quella parte Perfetto Ho capito tutto Ma proprio tutto Vedete? Praticamente saltando Così C'è qua il quadra che non cosa qua però Scusatemi E olè Sono troppo Troppo bravo Ma forse perché questo è il primo livello Posso passare semplicemente Ah No Non cosi Ma cosi invece Non si sa perché sono partito A 300 chilometri Eh Sono diventato pure spagnolo Intanto no Arrari 300 chilometri Arrari Ah intanto Se c'è qualcuno Che ha tipo 15 anni Mi contatti in privato Su Discord Vi lascio Il link del mio server Discord In descrizione Che magari Diciamo Ho un progetto In mente Chi vuole collaborare Può collaborare Adesso tutti quanti Mi scriverete Tipo Ah Lunis Voglio collaborare Al progetto Eh beh Tutti Tutti vorrebbero Vabbè Insomma E noi quindi Dovemmo andare Da quella parte Oh Sì 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 Ho capito tutto Della vita Per più o meno Ma adesso c'è pure L'ambulanza No che C'è pure L'ambulanza Ma che simpaticoni Guardate Lunisiani Veramente È una roba Da simpaticoni Aha Ho capito tutto Perfetto Allora Salto qua Poi Dove Eh Dove devo salto Eh Poi cosa sto dicendo Sto parlando in Arabo In una lingua Stranissima Eh Ah No Non di qua Vero Perfetto Allora praticamente Facendo così Adesso parlerò Tutto così No Scusate Non salta Eh Non salta affatto E io cosa devo fare Scusatemi Cioè ora Cosa Chi devo Devo chiamare qualcuno Per Eh Diciamo Perché mi sono offeso Eh Dove devo andare Dove devo andare Ah Ho capito Io tutto Ho capito Cercavano di nascondermelo Però Porca miseria Sono più Eh Sono più visivo Di un Di un telescopio Spaziale Proprio Mamma mia Perfettamente Sono talmente Più che altro Non è difficile Il parkour Però è difficile Capire dove deve andare Scusatemi È una cosa Veramente stupida Quelli che hanno fatto Cioè Non quelli Anche quelli che hanno fatto Questa mappa Sono un pochino Stupidelli No scherzo Sono stati molto bravi E simpatici Altra musica Porca miseria Avete sentito la musica Probabilmente no L'avrete sentita Per qualche Secondo Però Porca miseria Mamma mia Avete sentito Che robe Pazzesche Pazzesche Proprio Abbiamo celebrato Scusate Dove devo andare Perché mi sto già Rompendo le scatole Vi rendete conto Che era qua Per tutto questo tempo Era qua Io veramente Sono scioccato Completamente Assolutamente Scioccato Vediamo se Da questa parte Forse È così Madonna Ok Ce la faccio Guardate Elle Mamma mia Che bravitura Che bravezza Ok Adesso Dobbiamo stare Attenti Perché dobbiamo Saltare Proprio Da questa parte E abbiamo Il Check Point Il Check Point Oh la la Oh la la Pure l'aereo Passa Mentre Duny Si registra I video Va che robe Ma proprio Pazzesche Vero È veramente Una cosa Robesca Ok Perfetto Sono riuscito A saltare Avete sentito La voce Di prima Quello Non era altro Che strizza La pizza Si Era proprio Lui Non era Il creatore Della mappa Che ha detto Qualcosa Assolutamente No Assolutamente No Era strizza La pizza Come no Non mi credete E la la Cos'è sta roba Allora Prima di tutto Prima di tutto Io sono profondamente Innervosito Perfetto Ci stiamo arrivando Con grande Maestria Beh Insomma Dopotutto Non è che Sempre riusciamo A cavarcela Nei migliori Dei modi Io oggi Ho qualche cosa La lingua Che non va Cioè veramente Adesso me la sto Per tagliare La lingua Vedrete che domani Non ho più Nessuna lingua Allora praticamente Allora devo Andare da questa parte Forza Ma dai Dai Forza Così 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 Eh no Eh no Così No Allora vediamo Se riesco Vediamo Ma porca miseria Allora forza Adesso ci riproviamo Perché duniziani Dovemmo farcela Dovemmo Farcela E di nuovo Strizza la pizza Avete sentito Ma che antipatia Guardate Duniziani Io con questa perla Vi saluto E se vi piace Se vi piace Questa mappa Mi raccomando Scrivetemi Di fare altri episodi Molto belli Eh Magari anche Con altre persone Però non so Devo vedere Perché devo Eh capito Eh Scrivetemi Su discord Se siete arrivati Fino a questo punto Del video Scrivete Così vi do il cuoricino 1280 Eh Il numeretto Che vedete A destra 1280 Porca miseria E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao duniziani